Musica Si spara per un rimprovero morto, il 19enne Sannita non ce l'ha fatta il giovane di San Salvatore Telesino ricoverato all'ospedale del mare, non si era più ripreso, comunità sotto shock sui social, i messaggi di cordoglio, giovani troppo fragili dopo il covid, spiega lo psicologo. Follia ultra sul raccordo, puniremo i responsabili, il questore di Avellino annuncia la linea dura contro gli ultras della Paganese per gli incidenti sull'Avellino Salerno, il sindaco di Montoro episodio che non c'entra nulla con il calcio e da Pagani il primo cittadino assicura non è questa l'immagine della nostra città. Rissa in aliscafo, indagati, salda Vinci e la trotta, un vassoio di dolci schiacciato da un bagaglio, questo è il motivo della violenta lite scoppiata il primo settembre dello scorso anno a bordo di un battello che collega Procida a Napoli, oltre al cantante e alla sua famiglia nei guai ha anche la showgirl. Sicurezza è il primato della città di Benevento, è la più sicura in Campania, al terzo posto sulle 106 province italiane, analizzate dalla classifica sull'indice di criminalità stilata dal sole 24 ore. Tra le meno sicure invece Napoli al 14esimo posto, seguita da Salerno, Caserta e Avellino. Whirlpool, nuovo vertice, l'azienda deve chiarire al Mise il confronto con il ministro del lavoro Orlando e il sottosegretario dello sviluppo a Todde. La posizione del governo non cambia a garantire la tutela dei lavoratori e la continuità della produzione. Blitz e Coballe d'Argento, scoperto traffico illegale, i rifiuti speciali di 105 industrie della campagna raggiungevano anche Calabria e Veneto. Operazione del No e 5 le persone raggiunte da misure interdittive, 14 gli indagati, sequestrato un impianto a Pagani. E questi erano i titoli di stasera ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura il sannio sconvolto dal dolore per la morte di Pierfrancesco, il 19enne di San Salvatore Telesino, che si è ucciso con la pistola del padre dopo un rimprovero dei genitori. Sentiamo. Un gesto estremo dal tragico epilogo. Non ce l'ha fatta Pierfrancesco, il 19enne di San Salvatore Telesino, che si è sparato un colpo di pistola dopo un rimprovero dei genitori. Il giovane è ispirato all'ospedale del mare di Napoli, dove i medici hanno tentato in tutti i modi di strapparlo alla morte. Tantissimi messaggi di dolore che in queste ore stanno inondando le pagine social sannite. Da San Salvatore a Telese, familiari e amici di Pierfrancesco sono stati travolti da una tragedia indicibile. A 696 TV la riflessione di Armando Cozzuto, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Campania. Dare dei consigli è sicuramente molto difficile, ma possiamo dare aiuto. Oggi, attraverso questa triste e recente notizia di cronaca, torniamo a parlare nuovamente della fragilità, che è la fragilità ovviamente delle fasce deboli e sensibili della popolazione, nella quale rientrano appunto a tutti gli effetti i bambini, gli adolescenti ed anche altre categorie, ed insieme a loro soprattutto i sistemi, in questo caso il sistema famiglia. Come Ordine dei Psicologi della Campania stiamo già seguendo una tale linea che vuole mettere a disposizione le competenze degli psicologi per le famiglie, sostenerlo e lo stiamo facendo attraverso un protocollo che firmeremo a breve con la Regione, che consentirà a circa 800 famiglie di ottenere dei percorsi psicologici gratuiti, soprattutto nel caso in cui in queste famiglie ci siano dei ragazzi adolescenti. Siamo devastati da quanto accaduto, a nome mio dell'amministrazione e dell'intera comunità, voglio esprimere vicinanza e effetto alla famiglia, le parole del sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso. La questura di Avellino indaga sugli scontri tra tifosi sul raccordo autostradale Avellino Salerno dopo la partita tra il club bianco-verde e la Paganese, autodanneggiate, un ferito fortunatamente non grave. Il sindaco De Prisco, questa non è Pagani, il questore Terrazzi. Non semplici le indagini, vediamo. Rischiano le accuse penali di danneggiamento, minacce e lesioni, oltre al DASPO i tifosi di Paganese Avellino dopo gli scontri sul raccordo Avellino-Salerno al termine del match del Partenio. La questura erpina indaga, ma il numero uno di via Palatucci, Maurizio Terrazzi, chiarisce subito che le indagini per identificare i responsabili non saranno semplici. Questo tipo di, chiamiamola frangia, ultras, è ben agguerrita, quindi conoscono anche le tecniche per cercare di rendere difficile l'identificazione. Non abbiamo ancora contezza di come siano esattamente iniziati i fatti, ma l'unica certezza è che si tratta di un fatto grave, assolutamente, e che speriamo di poter definire in un'informativa con l'individuazione dei responsabili. Indagini che chiariranno la genesi degli incidenti, ma intanto il sindaco di Pagani, Raffaele De Prisco, condanna senza sé e senza ma l'accaduto. L'appello è di condanna chiunque sia stato, condannare fermamente i responsabili degli avvenimenti, però ovviamente per il buon nome della città di Pagani, che è rimbalzata sulle croniche nazionali per un fatto negativo, se non deluttuoso, è giusto che si verifichi tutto ciò che realmente sia accaduto, perché è importante fare chiarezza su tutto questo aspetto. Di delinquenzialità lo Stato puro, senza attenuanti né declinazioni, parla Girolamo Giacquinto, sindaco di Montoro. Nel territorio del suo comune sono avvenuti gli scontri. Bambini, donne che si sono visti bloccati sull'autostrada, avvicinare le autovetture, poi anche danneggiate, in modo minaccioso, insomma sono cose che veramente non hanno nessun tipo di possibilità di poter essere neanche comprese. E fa discutere quanto è successo a Napoli lo scorso 17 ottobre in occasione dell'incontro a Napoli-Torino. Alcuni tifosi hanno scortato il pullman degli azzurri a bordo di moto, circolando senza copertura assicurativa o la revisione periodica con due ruote di cilindrata non ammesse in autostrada e ancora senza pagamento del pedaggio autostradale. Le indagini proseguono per identificare chi nascondeva parzialmente la targa del motociclo. La rissa sull'aliscafo del settembre 2020 indagati Sal Da Vinci e la showgirl Fatima Trotta all'origine del diverbio con un operatore ecologico con botte e minacce anche di morte e un vassoio di dolci schiacciato da un bagaglio. Sentiamo. Sono stati indagati per rissa il cantante Sal Da Vinci, la moglie, il figlio, la showgirl Fatima Trotta e un 58enne di Procida in relazione ad una violenta lite scoppiata nel settembre del 2020 a bordo di un aliscafo che collega Procida a Napoli. All'origine del violento diverbio con botte e minacce anche di morte, un vassoio di dolci schiacciato da un bagaglio. A lanciare l'allarme fu il comandante dell'aliscafo chiedendo l'intervento dei carabinieri. Successivamente l'artista pubblicò un lungo post su Instagram per spiegare la sua versione dei fatti, come fece anche l'operatore ecologico attraverso alcuni media. Intanto oggi per la vicenda la Procura di Napoli ha notificato a tutti un avviso di conclusione di indagini, contestando i reati di rissa aggravata dai futili motivi e di interruzione di pubblico servizio. L'aliscafo infatti partì con 23 minuti di ritardo. A Sal Da Vinci, al figlio, alla moglie e alla showgirl, il sostituto procuratore Luciano D'Angelo contesta anche il reato di lesioni personali in concorso nei confronti del 58enne. L'uomo riportò un trauma cranico facciale e venne giudicato guaribile in 15 giorni. Ma anche nei confronti del 58enne, gli inquirenti ipotizzano il reato di lesioni nei confronti del cantante, colpito alla mandibola di suo figlio, colpito al labbro, della moglie che riportò varie lesioni sul corpo e della showgirl colpita agli arti inferiori. Ma c'è anche il reato di violenza privata aggravata dai futili motivi nei confronti del 58enne, che viene contestato a Fatima Trotta e al cantante relativamente alle presunte minacce proferite. Sebbene non ancora quantificata, in quanto sono in corso accertamenti, sarebbe veramente ingente nell'ordine di un paio di milioni di euro l'ammanco scoperto dai carabinieri nella caserma dell'arma di Napoli, la salvo d'acquisto che ospita gli uffici della Legione Campania, nel mirino degli investigatori, come riportato da alcuni media, un carabiniere che di recente è andato in pensione. A scoprire la sottrazione che sarebbe avvenuta nell'arco di anni, sarebbe stato proprio il militare subentrato nel ruolo rimasto scoperto. A coordinare l'attività investigativa, la procura militare, che al momento ipotizza il reato di peculato militare. Il Covid adesso meno positivi, ma sale la curva del contagio in Campania, preoccupano i ricoveri che aumentano in tutta la regione. Sentiamo. Diminuiscono i nuovi positivi, ma accresce anche la curva dei contagi da coronavirus. in Campania, complice all'ormale tradizionale flessione dei tamponi della domenica. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare i 253 positivi su 9.655 tamponi esaminati, 214 in meno di ieri, con 11.247 tamponi processati in meno. In percentuale significa che è positivo il 2,62% dei test, mezzo punto percentuale in più di ieri, quando il tasso di positività era al 2,23%. Sale anche il numero delle vittime, cresce il numero dei ricoveri ospedalieri. Nei reparti di terapia intensiva sono 17 le persone ricoverate, vale a dire 3 in meno rispetto alla giornata di ieri. Aumentano invece purtroppo i ricoveri nei reparti di degenza ordinaria Covid. Sono 183 i pazienti ricoverati, ovvero 11 in più rispetto a ieri. Mentre per quanto riguarda il contagio, Napoli resta tra le città più colpite della Campania, con 97 positivi e c'è una percentuale in salita anche a Torre Annunziata, dove si contano 32 nuovi positivi in quattro giorni. Ma ricordiamo anche il caso della scuola di Qualiano, con una ventina di bambini contagiati, tutti figli di genitori non vaccinati. Nella settimana dal 9 al 15 ottobre in Campania ci sono state 1.723 positivi e dal 16 al 22 ottobre 2.228. Il dato ha preoccupato molto il governatore, che ha parlato di possibile variante Delta ed è per questo che ha sollecitato la vaccinazione e una spinta per la terza dose. Benevento è la città più sicura in Campania, al terzo posto sulle 106 province italiane analizzate dalla classifica stilata dal Sole 24 Ore. Tra le meno sicure, Napoli, seguita da Salerno, Caserta e Avellino. Sentiamo. È Benevento, la città più sicura della Campania. La classifica del Sole 24 Ore, che analizza l'indice della criminalità nelle 106 province italiane, premia il capoluogo Sannita, che si piazza in fondo alla classifica dominata dalle città con maggiori reati. È praticamente la terza città più sicura dopo Orestano e Pordenone, conquistando il 104 posto su 106 con 5.170 denunce, e cioè 1.886 ogni 100.000 abitanti. Non così bene, invece, le altre province campane. Napoli al 14esimo posto, Salerno al 44esimo, seguita da Caserta al 51esimo posto. Avellino si piazza invece al 74esimo posto su 106. A decretare Benevento, una delle città più tranquille d'Italia, l'indagine è realizzata attraverso le denunce registrate rispetto a 37 tipologie di reati. Il capoluogo Sannita è la provincia dove si commette il minor numero di violenze sessuali in Italia, mentre resta tra le principali riguardo alle percosse, con 66 denunce ogni 100.000 abitanti e il 38esimo posto. Zero gli omicidi volontari consumati nel 2020, con il Sannio all'86esimo posto in classifica. Resta invece tra le principali realtà per reati di incendio. Ed arriva immediato il ringraziamento alle forze dell'ordine da parte del sindaco di Benevento, Clemente Mastella. È un risultato di grande importanza che premia e testimonia l'impegno di tanti uomini e donne nella lotta contro la criminalità. Risultati che contribuiscono ad incrementare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni, rafforzando quel patto sociale che chiama ciascuno di noi a svolgere la propria parte per la sicurezza comune. Ora l'avvertenza Whirlpool. Nessuna azione concreta è emersa dal tavolo di oggi al Mise, ma il ministro Orlando assicura garantiremo la tutela dei lavoratori. Rossella Strianese. Altra fumata bianca al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico per l'avvertenza Whirlpool di Napoli. All'incontro assente il ministro Giorgetti, ma c'erano il ministro Andrea Orlando e la viceministra Alessandra Todde. Orlando ha ribadito la volontà di assicurare la continuità occupazionale per i lavoratori di Napoli, ma alla richiesta di azioni concrete da parte dei sindacati non è ancora arrivato alcun dettaglio operativo. Si è anche sottolineato che la stessa Whirlpool non ha rifiutato in linea di principio la possibilità di un trasferimento del ramo d'azienda, ma si è riservata a rivalutare con i legali l'eventuale operazione. Invitalia, nel confermare la progressione del consorzio, ha annunciato che gli impegni industriali ad oggi assunti confermano la disponibilità ad assorbire tutti i lavoratori napoletani e a presentare il piano definitivo il 15 dicembre, mentre il tavolo al Mise è stato aggiornato a martedì 2 novembre. Intanto, venerdì 29 ottobre, gli operai manifesteranno con tutti i lavoratori Whirlpool presso la sede di Cassinetta in provincia di Varese, mentre prosegue anche l'avvertenza legale e attesa sempre per venerdì la sentenza del Tribunale che si dovrà esprimere sul ricorso presentato dai sindacati contro licenziamenti. Sulla sentenza, il Tribunale di Napoli ha rinviato a una settimana il giudizio di merito. Attendiamo fiduciosi perché in base a quella sentenza l'avvertenza va in una direzione o in un'altra. Ancora cronaca, rifiuti speciali pericolosi che da pagani venivano inviati illegalmente in siti delle province di Salerno, Napoli, Caserta, Verona e Catanzaro. 14 gli indagati. Sara Botte. Partiva da pagani il traffico illegale di ecoballe che giungevano poi in diversi siti di stoccaggio in tutta Italia. 14 gli indagati, tra titolari e dipendenti di società di recupero, trasporto e intermediazione di rifiuti speciali tra Campania, Calabria e Veneto. Mentre il GIP di Salerno ha firmato 5 ordinanze interdittive su richiesta della DDA. Le indagini di procure militari del NOE hanno svelato il traffico illecito di rifiuti. 2.600 le tonnellate provenienti da 105 impianti industriali della Campania, principalmente costituiti da imballaggi plastici di scarto delle industrie conciarie e da sacchi in poli accoppiato, cosiddetto argentato, da industrie conserviere. Coinvolte sette aziende che si trovano nelle province di Salerno, Napoli, Caserta, Verona e Catanzaro. A far partire l'operazione denominata Ecobale d'Argento, la scoperta dell'abbandono di 30 tonnellate di rifiuti plastici in un terreno a Battipaglia erano accantonati o interrati in aree agricole. Stessa scoperta alla Mezzia Terme, dove sono stati trovati diversi container di rifiuti speciali. E sull'operazione è intervenuto il presidente della Commissione Ecomafie, Stefano Vignaroli, che si è complimentato con i carabinieri del NOE e con la DDA di Salerno, precisando evidente e urgente la necessità di azioni che rendano più trasparente la gestione dei rifiuti. Occorre anche a livello governativo una maggiore attenzione e consapevolezza. E nel Sannio, da oltre tre anni, è praticamente fermo il ciclo dei rifiuti per via dell'incendio che nel 2018 danneggiò lo stir di Casalduni. Da allora zero lavori e rifiuti portati ad Avellino e Caserta con costi ingenti. Ti sentiamo Fallarino. Da tre anni e due mesi l'unico impianto per la lavorazione dei rifiuti presente nel Sannio, ovvero lo stir di Casalduni, è fermo. E i lavori per il ripristino dopo l'incendio di probabile matrice dolosa divampata ad agosto del 2018 ancora non partono. Una situazione che purtroppo sta creando tanti problemi anche in termini economici. Sia i cittadini che si ritrovano a pagare una tariffa alta, sia per i dipendenti della Samte, società partecipata interamente dalla provincia di Benevento che ancora non abbia le opere presso l'impianto di Casalduni. Opere peraltro finanziate dalla regione. Vogliamo entrare nel dibattito, nella disputa fra regione e diciamo province che ci sa ormai un cortocircuito da circa tre anni. Mentre la regione ha un piano chiaro fatto su tutto il territorio regionale appunto con dei siti di compostaggio e una raccolta diciamo puntuale di smaltimento dei rifiuti, qui si cerca di contrapporsi con niente, praticamente non hanno idee, non sono riusciti a fare nemmeno un progetto diciamo un piano provinciale dei rifiuti. Ora in gioco c'è anche il lato rifiuti al quale, come stabilito dal Palazzo Santa Lucia, il compito di stilare l'intero piano provinciale per lo smaltimento, ma serve sbloccare l'impianto di Casalduni. La provincia incominciasse a fare dei lavori che necessitano questi impianti, ci servirebbero insomma tre o quattro mesi per ristrutturarlo e metterlo al medio e quindi far avviare lo stile al più presto possibile. Il Covid torna a galoppare anche in Irpinia, all'ospedale Moscati, due le infermiere positive al pronto soccorso. Simone Tagliapariello. Il coronavirus avanza in Irpinia tra contagi in risalita e nuovi casi di infermieri positivi al pronto soccorso, nonostante la doppia dose di vaccino, mentre aumentano i ricoveri al San Giuseppe Moscati. Cinque nuovi casi accertati in Irpinia nelle ultime ore. Su 134 tamponi processati, i contagi sono stati individuati, uno per comune tra Montemiletto, Montoro, Nusco, Sirignano e Sumonte. Dieci i ricoverati in ospedale ad Avellino. Tra i pazienti molti giovani e tanti non vaccinati. Resta chiuso l'Istituto Comprensivo De Santis di Cervinara per i contagi tra gli alunni, disagi e classi chiuse anche a Cesinali e a Riello. Allerta al Moscati dove tra i 34 infermieri in forza e al pronto soccorso sono state due le positività accertate. Dopo il caso della prima infermiera è stato confermato dal tampone molecolare anche il contagio della seconda. A queste lavoratrici va la nostra solidarietà sperando che guariscano presto. Le condizioni di lavoro che da sempre denunciamo certamente non aiutano. I lavoratori del pronto soccorso sono sotto organico e costantemente in affanno. Ma intanto è caccia ancora i sanitari non vaccinati e i sindacati predicano cautela. Al momento non mi risultano colleghi non vaccinati. Abbiamo seguito attentamente questa situazione. Qualcuno che ha scelto di non vaccinarsi non è al lavoro chiaramente ma è sospeso. Ora parliamo del piccolo Manuel, un bimbo salernitano in cura allo Ruggi per una grave malattia. Il suo sogno è diventato realtà, salire a bordo di una volante della polizia. Filippo Notari. Chissà quante volte aveva immaginato di salire a bordo di una volante ed affiancare quegli agenti che per lui sono simili a dei supereroi. Un sogno che il piccolo Manuel è riuscito a coronare proprio all'indomani del suo compleanno. Il bimbo che è in cura all'ospedale di Salerno ha ricevuto una visita speciale che gli ha riempito il cuore di gioia ed emozione nel parcheggio del Ruggi. Gli agenti della questura di Salerno gli hanno regalato una giornata indimenticabile. Il piccolo infatti ha potuto coronare il sogno di salire a bordo di una volante dove affiancato dai poliziotti ha azionato sirene lampeggiante ascoltando la radio di servizio. Per lui è anche un pensiero speciale da parte del questore di Salerno Maurizio Ficarra che attraverso i suoi uomini ha fatto consegnare a mano il lunalettere in un giocattolo della polizia di Stato, un cappellino e uno zainetto. Il piccolo è apparso emozionato e a tratti incredulo per essere riuscito a realizzare un sogno che difficilmente potrà dimenticare. Una giornata speciale anche per gli uomini in camice e in divisa che nel regalare un sorriso. Hanno provato a trasmettere calore e forza a mano e lei alla sua famiglia. Questo dimostra che la vicinanza delle forze dell'ordine al cittadino a 360 gradi quindi anche davanti al desiderio di un bimbo di poter vedere da vicino quelli che sono i suoi eroi, quindi la polizia di Stato e nello specifico le volanti di Salerno. Prosegue la raccolta firme per il referendum cannabis legale. Oggi più Europa ha fatto tappa ad Avellino. Vediamo. Le oltre 620.000 firme sul referendum cannabis legale verranno consegnate in corte di Cassazione il 28 ottobre. Nel frattempo la campagna scende nelle piazze delle principali città e nei comuni italiani. Ad Avellino ha fatto tappa nell'ambito di un tour in tutta la campagna e il deputato Riccardo Maggi, presidente nazionale di più Europa e leader del comitato promotore del referendum per la legalizzazione della cannabis. Si deve aprire un dibattito e si deve aprire per modificare una legge che noi riteniamo sbagliata. La risposta dei cittadini anche qui ad Avellino, anche qui in Campania, io in questi giorni ho girato praticamente tutte le province e i capoluoghi di provincia campana, è una risposta straordinaria, soprattutto dei più giovani. Cambiare la legge sugli stupefacenti nel nostro paese che ha fallito perché ha riempito le nostre carceri di detenuti per reati di droga ma non ha diminuito la quantità di sostanza in circolazione. Noi non proponiamo l'uso del cannabis e delle sostanze stupefacenti, noi proponiamo un modo alternativo di affrontare un fenomeno complesso e di combattere la criminalità organizzata. Che riscontri state avendo sul territorio? Beh, strepitosi. Moltissimi giovani avevano già sottoscritto con la modalità digitale, con lo speed. In questo momento siamo a oltre 620.000 firme raccolte a livello nazionale ma chi non lo aveva ancora fatto sta firmando, come qui oggi ad Avellino, fisicamente sul modulo cartaceo con la vecchia modalità tradizionale. Assegnate questa mattina a Benevento le borse di studio Carlo Mazzone Global Teacher Prize, un progetto nato sulla scia del riconoscimento ottenuto dal professore Sannita Carlo Mazzone, il primo insegnante italiano ad entrare nella top 10 del Nobel dei docenti. Maria Teresa De Lucia. Continua a creare opportunità e ricadute positive l'entusiasmante esperienza del professore Sannita Carlo Mazzone, il primo insegnante italiano ad entrare nel 2020 nella top 10 del Global Teacher Prize. Questa mattina presso l'aula magna dell'Istituto Tecnico Industriale Lucarelli di Benevento sono state assegnate le borse di studio Carlo Mazzone Global Teacher Prize. Con i fondi messi a disposizione dal vincitore del premio che ha scelto di dividere la somma con gli altri nove finalisti. Così Mazzone ha avuto la possibilità di disporre di 55 mila dollari che ha trasformato in borse di studio con cadenza annuale per gli studenti del territorio Sannita. Sono concretamente 400 euro a testa per ogni alunno premiato. Al di là del piccolo contributo economico, noi ci auguriamo che questi soldi possano essere spessi nel contesto del prosieguo degli studi. L'intento è di far germegliare un seme con questi fondi che sono stati, come saprete, messi a disposizione dalla generosità del vincitore che ha colto pienamente lo spirito del Global Teacher Prize. Cerchiamo proprio di fare qualcosa di assolutamente ispirazionale, far capire che la cultura e la fratellanza sono i semi per il nostro futuro. Per dare un segno anche alla sua ceppaloni, uno dei premi è stato assegnato anche ad un'alunna della Scuola Media del Centro Sannita, sempre guardando ad un concetto più ampio e inclusivo di eccellenza scolastica. È bello avere l'eccellenza scolastica, ma per noi l'eccellenza scolastica è donarsi agli altri, essere un esempio e soprattutto considerare il percorso che si è fatto. Sospiro di sollievo a Monte Calvo Irpino è stata ritrovata intatta in un fondo agricolo la statua della Madonna di Fatima, trafugata sabato scorso all'interno di una cappellina. I carabinieri l'hanno restituita al parroco Don Giancarlo Scrocco, il quale a sua volta ha deciso di non sporgere denuncia nei confronti dell'autore del gesto, affetto da problemi. Tornano le sfilate. È stato un successo il bridal show di Vandas Dress per le coppie che si avvicinano al matrimonio. Così riparte il settore del wedding. Sentiamo. Riparte il settore sposa e lo fa alla grande con il bridal show di Vandas Dress, azienda leader in campagna da oltre 40 anni sul mercato del wedding. Il Meet 20 di Atripalda ha ospitato donne e coppie prossime al giorno più importante della loro vita con una sfilata dei marchi più prestigiosi del settore. Pronovias, Nicol Milano, Carlo Pignatelli, Petrelli, questo per quanto riguarda lo sposo. E poi ovviamente non tralasciamo il Made in Italy, Elisabetta Polignano, Valentini, Diamond Couture. Con il suo adente sottofondo della voce di Ilaria Ercolino e del sax di Giuseppe De Blasio, la cura dei dettagli degli abiti è stata impeccabile. Affidata alla seconda generazione della famiglia in bimbo, Francesca e Giuseppe, sempre supportati dalla madre, ogni presente, Anna Maria Pescatore e dal papà Carmine. Quest'anno in maniera particolare ci teniamo perché sia il giusto segnale di ripresa, di rinascita, anche per questo settore che è stato particolarmente penalizzato. Per cui vogliamo restituire alle spose la gioia di vivere questi momenti che precedono il matrimonio e quindi anche la scelta dell'abito. Non solo l'abito, Vanda Sdressa accompagna gli sposi lungo tutto il percorso che porta al fatidico sì. Ci impegniamo affinché le spose vengano assistite attraverso consulenze personalizzate. Abbiamo una sartoria specializzata con delle collaboratrici altamente qualificate. E per chi non ha potuto partecipare al Bridal Show, già da oggi la famiglia in bimbo apre le porte dell'atelier di Atripalda alle coppie. I ricapiti telefonici sono 0825 623 666 oppure puoi contattarmi su WhatsApp al numero 339 6351619. Visitate anche il nostro sito www.vandasdress.it se le spose vogliono iniziare a dare uno sguardo a quelle che sono le nostre proposte. È tutto per stasera, grazie regia ad Enrico Coppola. Vi lascio alle previsioni del tempo e vi auguro una buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.